Trame Festival, che partirà tra pochissimo, dal 19 al 23 giugno, è sbarcato qui a Torino, Torino, Salone del Libro 2019. Sono con Maria Teresa Morano e il cuore di Trame Festival. Ciao Maria Teresa. Ciao, buongiorno. Penso che il Salone del Libro sia proprio il luogo ideale per lanciare una manifestazione come Trame, che è il Festival dei Libri sulle Mafie. Chiaramente siamo felici di essere qui, siamo indaffaratissimi per le ultime fasi, la preparazione di questa edizione del Festival, siamo contenti del programma che è stato costruito, anche quest'anno ci sarà occasione di dibattere, come diceva poco fa Gaetano Savatteri, in un pluralismo di idee, di opinioni. Comunque i temi sono sempre quelli, la lotta alle mafie, in tutte le declinazioni in cui si vogliano specificare. chiaramente per noi è una sfida importante, perché significa forse andare anche controcorrente, dove ti dicono che l'andrangheta è potentissima, che ormai è imbattibile, noi siamo lì a dire che l'economia sana e le persone che hanno voglia di lavorare in maniera libera in Calabria possono continuare a farlo e possono continuare ad andare a testa alta. Ogni anno è una novità, c'è sempre qualcosa da scoprire a Trame, quindi invitiamo tutti a partecipare, ma com'è cambiato Trame nel corso degli anni? Sono ormai dieci anni. Sì, questo è il nono anno, Trame come è cambiata, ma forse non è cambiata, nel senso che cambiano gli autori, cambiano i contenuti, cambiano i protagonisti, resta sempre quella voglia che noi leggiamo negli occhi di questi ragazzi, di questi volontari che si iscrivono al festival e che vengono lì proprio contenti di dare il loro piccolo contributo, escono da questi cinque giorni di festival più coscienti, più consapevoli di quale sia il loro piccolo grande ruolo nella società. Ragazzini che magari non hanno mai dovuto fare conti con questo problema, non hanno mai avuto problemi di indranghete e si rendono immediatamente conto che per continuare a vivere in una terra libera dalle mafie forse devono fare la loro parte, questo è importante. Invitiamo tutti a resistere e a venire a Trame Festival dal 19 al 23 giugno 2019 alla Mezzia Terme.